Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso, ma dimora in perpetuo. Gerusalemme è circondata dai monti, e così l'Eterno circonda il suo popolo, da ora in perpetuo, poiché lo scettro dell'impietà non sempre rimarrà sull'eredità dei giusti, onde i giusti non mettano mano all'iniquità. O Eterno, fa del bene a quelli che sono buoni e a quelli che sono retti nel loro cuore, ma quanto a quelli che deviano per le loro vie tortuose, l'Eterno li farà andare con gli operatori di iniquità. Pace sia sopra Israele.